Musica Ragazzi, quando le cose vanno male, penso che sia normale mettersi qua a tavolino, fare un passo indietro e cercare di parlare nella più totale tranquillità e la mente aperta con chi la Juventus l'ama davvero. E io so che sul mio canale YouTube ci sono delle persone che la Juve l'amano in maniera viscerale, come me o più di me. Io questo non lo metto in dubbio. Quando si attraversa un periodo negativo, come il seguente, credo però che sia necessario sedersi e mollare tutti i preconcetti. Quindi, attenzione, lasciatemi finire il discorso, perché so per certo che da una parte o dall'altra, che siete schierati da una certa corrente di pensiero o dall'altra, starete già pensando eccolo, mi viene a fare il pippone dicendomi che quello che dico io, quello che faccio io non va bene. No, no. Perché io sono forse paraculo, potrei anche essere visto in questa maniera, ma sono fatto così. Questo è il mio modo di pensare, non c'entra a fare. Faccio fatica a mettere il singolo davanti alla Juventus. Lo dice uno che ha riconosciuto a Ronaldo tantissimi meriti, che riconosce a Ronaldo tantissimi meriti, ma che anche quando era la Juventus, per quanto fosse indispensabile e per quanto dicessi che in campo la Juventus necessitava di Cristiano Ronaldo, non l'ha mai messo davanti alla Juve. Non l'ho mai messo neanche quel signore lì davanti alla Juve. Neanche quell'altro signore lì, nel 10 e nell'1. Perché possono essere sceglie di baladi e sono il 10 e l'1, ma per me il 10 e l'1 rimangono Alessandro e Gianluigi. Non ci sono andati loro di fronte alla Juve. Non c'è andato Ronaldo e non ci va Allegri. Come non ci va Chiesa e non ci va De Ligt. Non ci va nessuno. Perché la Juventus è una cosa che io metto davanti a qualsiasi altra. D'accordo? Io voglio che si parla da questo presupposto. Non mi stanno piacendo due modi di analizzare la Juventus che sto riscontrando nei commenti. E capisco che sia brutto dovervelo dire, ma voglio fare il punto della situazione e cercare di capire qual è davvero il problema. Perché in questo momento tutti, come normale che sia, quando si attraversa un momento di difficoltà, hanno la soluzione. I miei commenti sono poveri di analisi della partita. Ma pieni di risposte. Pieni di risposte per cercare di risolvere i problemi. Vi faccio gli esempi più disparati, poi vi parlo delle due correnti filosofiche. È colpa del centrocampo. È colpa della dirigenza. È colpa dell'allenatore. È colpa dei giocatori. Una volta era stata colpa di Scesni. Una volta era stata colpa di quell'altro. Una volta era stata colpa di quell'altro. Quando iniziano a esserci così tante colpe e ognuno di essi, ognuno di voi, ognuno di noi ha una risposta diversa, probabilmente significa che il problema è più complesso. Perché se fosse sufficiente una cosa sola, allora basterebbe risolvere quella. Nel video delle partite, io facevo un'analisi che partiva dal fatto che negli ultimi due anni, negli ultimi due stagioni, quindi con Sarri e con Perlo in panchina, si hanno viste spesso dei momenti sull'anela temporale in cui ci ritrovavamo a dire Ehi, ma stiamo davvero vedendo quello che abbiamo visto in precedenza con la Juve? O questo è un altro tipo di Juventus? O qui si sta cambiando qualcosa? Quando c'erano Sarri e Perlo, non mi avete mai sentito parlare di Allegri. O comunque lo tiravo fuori in alcuni momenti perché era chiacchierato, non perché fosse qua a dire Oddio, speriamo che torni Allegri e che metterà tutto a posto. Quando ci si lascia, come ci si è lasciati con Allegri, bisogna accettarlo e andare avanti senza guardare indietro. Quando quest'estate si parlava del ritorno di Massimiliano Allegri, io vi dicevo, secondo me tornerà Allegri, ma non penso che sia il tipo dell'allenatore giusto per questa Juventus. Era questo il motivo, ragazzi, era questo qua il motivo. Io rispetto Allegri e gli voglio un bene dell'anima, gli voglio veramente bene per quello che ho fatto nei cinque anni precedenti. Ma questa non è una squadra d'Allegri, signori, questa non è una squadra d'Allegri. A meno che non si rinunci completamente, sentite quello che vi dico, all'idea di gioco e si va da sole ed esclusivamente in contropiede. E Allegri non è questo, ragazzi. Attenzione, partendo da questo presupposto, Allegri è un allenatore che ama la tecnica. Allegri è un allenatore che adora le giocate tecniche. Secondo me, la Juventus può far gol solo in ripartenza, o solo in degli avversari, perché non siamo in grado di gestire la partita. Lo dicevo l'anno scorso e lo torno a dire anche adesso. Speravo che Allegri fosse un po' più avanti nell'idea della squadra, perché adesso non cerchiamo di passare per fenomeni, ma noi tifosi ce la siamo vissuta la Juve degli ultimi anni. Abbiamo capito i pregi e i difetti di alcuni calciatori. Allegri no. Allegri l'ha detto, il primo anno non ho guardato il calcio. Il secondo me lo sono guardato un po', ma non tantissimo. Significa che è rimasto lontano dall'idea di crescita che ogni singolo calciatore aveva. Ma banalmente, il fatto che mi dica io Chiesa lo voglio a destra, che per me ci sta, è giusto che sia così, perché Chiesa rende meglio a destra, significa che se non ti vuoi privare di quadrado, quadrado devi giocare a basso. Se no ne tieni fuori uno dei due, che l'anno scorso sono stati i due calciatori migliori della stagione che ti hanno salvato. Come non tiravo fuori Allegri, non tiro fuori nemmeno Ronaldo, perché ragazzi per me Ronaldo è un giocatore di Manchester United, non è più un giocatore della Juve, è inutile che continuiate a venirmi a dire abbiamo perso i gol di Ronaldo, ma pensate che non lo sappia, sono stato il primo a dirlo però, ragazzi sono stato il primo a dirvi che era un disastro l'accessione di Cristiano Ronaldo. Oh, è andata così, è finita, si va avanti, si va avanti e si prende quello che viene. Perché vi stavo dicendo che ci sono due correnti nei commenti? Ci sono quelli che adesso Allegri, a prescindere lo stanno detestando, lo odiano, è acciughe questo, è cosa pretendi questo allenatore che non sa niente, è quelli che lo stanno idolatrando. Ragazzi vedrete che Allegri ci salverà perché lui è un allenatore che, vedrete che ci riusciremo perché anche nel 2016 eravamo partiti così. Ragazzi c'è un piccolo dettaglio che forse sfugge, nel 2016 il campionato di Serie A non aveva delle squadre così livellate tra di loro, vicino. Il livello del campionato italiano in questo momento è molto equilibrato, all'epoca la Juventus era più forte di tutte le altre inseguitrici. Ne aggiungo un'altra, all'epoca la Juventus a centrocampo giocava con Marchisio, Chedira e Pogba. Siamo partiti male, ma c'erano questi tre il rosa. E non venitemi a dire che Chedira è scarso, Marchisio è scarso, ma Pogba no! Perché non ce n'è nemmeno uno nella rosa della Juventus in questo momento forte come Pogba, Chedira o Marchisio. A centrocampo non ce n'è nemmeno uno forte così. Neanche uno. Vi voglio far vedere una slide che è la seguente. e voi direte, ma cosa me ne frega di tutto ciò? Cosa me ne frega di quante partite hanno giocato i vari allenatori e quanti gol hanno segnato e quanti gol hanno subito? Tante volte si dice che Allegri è allenatore difensivista, però in realtà la percentuale di gol segnati da Allegri non è mica male, se consideriamo poi il fatto che sono cinque stagioni. Così come la percentuale dei gol subiti è abbastanza buona, nemmeno ottima, ma a Conte c'è la migliore se proprio vogliamo. Questi dati non vogliono dire niente perché se guardiamo questa tabella possiamo notare come allora Pirlo è stato l'allenatore che ha fatto segnare di più la Juventus in percentuale, in proporzione, e quindi diciamo eh, allora Pirlo era assolutamente l'allenatore con cui andare avanti. No? Quando vi parlate di gol fatti, gol subiti, delle stagioni, andate a prendere, va tutto contestualizzato. E perché ho voluto farvi vedere quella slide? Per un motivo che io ad Allegri negli anni precedenti ho riconosciuto sempre solo una cosa. Il metodo, lo studio, la tattica per arrivare ad una e una cosa sola. il risultato. Il risultato. Io amavo Allegri perché era un risultatista. Perché con quello che aveva a disposizione ci metteva magari un po', ma poi arrivava al risultato. Cascasse il mondo. Questa è la Juve più scarsa delle sei che sono state date in mano ad Allegri a inizio campionato. Quindi non pretendo tanto. C'è il discorso legato a un anno che è andato male, c'è il discorso legato a Ronaldo che si è andato all'ultimo. Ci sono tantissime cose ed era Juve più scarsa. A me di come giocherà Allegri non me ne frega niente. Perché nella mia testa l'obiettivo non è vincere la Champions. Se nella testa di qualcuno c'è l'obiettivo di vincere la Champions ragazzi alzo le mani non c'è neanche più da discutere. Perché questa squadra per me è palese che non possa vincere la Champions o che la possa vincere soltanto per miracolo. Poi nello sport i miracoli accadono e sarei il primo a esserne felice. Come quelli che mi dicono eh vabbè ma io la Serie A non me ne frega niente a me della Serie A perché tanto i suoi detti ne abbiamo vinti ne abbiamo vinti tanti. Però si incastano se non si vince si incastano che sia un terzo-ultimo in classifica. Ma è normale che sia così. Perché quando la Juve perde o non vince lo Juventino non può essere contento. Come lo Juventino non può essere contento di Allegri in questo momento. Perché se Allegri in tutti gli anni ci ha abituato a ragionare a vivere la partita le partite nelle partite per arrivare al risultato lo Juventino che come me come me ha voluto bene ad Allegri non può assolutamente essere contento in questo momento perché Allegri il risultato non lo sta ottenendo. Chi se ne frega come arriverà al risultato. Chi se ne frega l'importante è che arrivi. Il problema è che ora non so se arriverà. I riseri ve lo dicevo secondo me arriva nelle prime quattro ma ve lo dicono in una maniera più tranquilla possibile perché ho fiducia in Allegri lo ritengo un buon allenatore è inutile che mi venite a dire però Allegri è un buon allenatore l'altro giorno uno mi diceva secondo me la Juventus ha un problema in panchina dovrebbe prendere Gasperini Juric o Italiano allora se siamo qua che mettiamo in dubbio Allegri perché preferiamo Gasperini Juric o Italiano anche qua come se qualcuno più voleva vincere la Champions senza le mani perché secondo me non c'è più possibilità di dialogo se mi venite a dire Allegri non è il migliore allenatore del mondo ma certo che è palesemente che sia logico che sia così se mi dite Allegri forse non è nemmeno il migliore allenatore in Italia in questo momento ma può essere è stato fermo due anni ma nessuno sta dicendo il contrario se mi venite a dire Allegri fa cagare ecco allora non credo che si possa continuare ad affrontare un dialogo se mi dite sono scontento di Allegri in questo momento perché il risultato non sta arrivando ah ecco allora ci siamo sì sono d'accordo questa Juve deve sfruttare le fasce questa Juve ha poca qualità in mezzo prima mi paravo Marchese o Pogba che dire ragazzi ma un centrocampo del genere con questa squadra vince lo scudetto a mani bassissime con quel centrocampo con i giocatori in forma dell'epoca e questa squadra lo scudetto lo vinci in carrozza ma senza neanche un problema adesso invece devi inventarti qualcosa per arrivare al risultato io non riesco a capire quello che mi critica a priori Allegri che mi dice che non capisci niente di calcio è quello che invece me lo va ad innalzare dicendo eh no guarda è intoccabile eh no non fa errori ma non attentarti a dire che secondo te ha sbagliato perché se non arriva il risultato è il primo che deve essere messo in dubbio ma se arriva il risultato come è arrivato negli anni io non riesco a capire come possa essere considerato ma è notore scarso quindi quelli che lo valutano troppo poco e quelli che lo valutano troppo e basta dovrebbero cercare di adeguarsi rispetto a quello che vedono e non a un pregiudizio perché Allegri non è né Gesù Cristo né Satana c'è una via di mezzo da Gesù Cristo a Satana non è il salvatore come non è il distruttore però ora bisogna iniziare a lavorare e bisogna iniziare a prendere una squadra e a capire che quelli sono i titolari quelli sono quelli forti quelli giocano sempre quando ci sono quegli altri che giochino che non giochino anche frega cazzi scusatemi eh scusate un po' volgare sì lo so io credo che la Juventus debba giocare con il 4-2-3-1 questa squadra è da 4-2-3-1 perché i migliori 11 giocatori che ha il rosa si sposano alla perfezione con quel modulo questa è la grafica Shesley in porta Sandro sulla sinistra Danilo sulla destra due in mezzo tra Bonucci Chilin e De Litt e credo che Chilin debba essere il terzo cioè quello in panchina perché De Litt bisogna che giochi ragazzi non può stare in panchina De Litt in questa Juve Locatelli ad oggi uno tra Rabio e Bentancur nei tre quartisti Di Bala Quadrado Chiesa e davanti Alvaro Morata oppure Moise Ken sono 11 più 3 ballottaggi che ad oggi Alvaro Morata non lo puoi togliere perché io credo che questa oggi sia la Juventus se stanno bene questi sono i titolari se no ci sono le tre riserve se sta male qualcun altro ci penseremo ma lo dice lo stesso Allegri ragazzi lo dice lo stesso Allegri quando Ascai qualche mese fa dice eh nell'anno in cui andiamo in finale a Cardiff ci ritroviamo a un certo punto che voglio giocare col centrocampo a tre le cose si vanno bene arrivano anche i risultati cosa che adesso non stanno arrivando faceva gol i Wayne si vincevano a zero poi si mollava perché questo è il grande problema di questa squadra che poi si molla e non siamo più messi bene in campo a un certo punto abbiamo dei giocatori che non hanno tecnica e che quando sono stanchi non hanno più energia non riescono a gestire il pallone da fermi perché poi arriveremo a migliorare la condizione atletica ma la condizione tecnica rimarrà la stessa ci sono delle partite in cui giochi mai le portate a casa e fa finta di niente ma va bene lo stesso e allora dopo Firenze dissi che con tutto rispetto di alcuni ragazzi che avevo lì dentro che mi disse non ho inventato niente ho fatto giocare solo i migliori che avevo li ho responsabilizzati e li ho messi in campo ma da giocare con le 3-5-2 con le mezze ali mi ricordo che aveva Stefano Sturaro a metterli con i due mediani con Mazzucic da una parte che mi faceva quasi il pokebap che poi dopo faceva il centravanti i guaini di bala e quadrata a destra è come gli sento sai dove sei dentro una stanza e non c'è aria apri la finestra e come apri la finestra gli sento aria vedi tutti i giocatori ma dopo 5 minuti i giocatori con un sorriso sulla bocca gli ho detto ecco ho trovato la soluzione ho trovato ho avuto il culo di trovare la soluzione piuttosto che Rincon che Sturaro che questi giocatori qua preferisco mettere un giocatore in meno di quelli lì e mettercene uno in più offensivo che Mandzukic perché Mandzukic va a interpretare il ruolo con del sacrificio ma davvero nella formazione di ieri che secondo me è ok la formazione di ieri tranne il fatto che manca Federico Chiesa e manca Matais Delit o esce Chiellini e entra Delit esce Rabiot o Bentancur e l'altro si mette di fianco Locatelli e entra Chiesa te hai già risolto te hai già risolto ma chi se ne frega quanti attaccanti metti in campo ma mettine 4 ma chi se ne frega ma l'equilibrio nasce dallo spirito di sacrificio degli uomini che metti in campo se a Chiesa gli chiedi di attaccare ma quando si è in fase difensiva di tornare ma lo fa se la stessa cosa la chiede a Quadrado la fa ieri Di Bala è andato a prenderti palla in difesa non c'entra niente quanti attaccanti sono e quanti centrocampisti sono niente perché l'equilibrio lo trovi con il sacrificio di ognuno dei giocatori mettendo in campo i migliori ragazzi non siamo lontani da quella che sarà la Juve titolare o è questa quella che stiamo vedendo in questi giorni è questa mancano Chiesa di Elite e come dicevo nel video ieri sera Allegri forse non ha capito che Chiesa di Elite sono davvero già pronti e già da Juve fino adesso sono stati delle Juventus non giovani mi dispiace non giovani ma abbiamo bisogno anche di loro soprattutto di loro perché è inutile fare un progetto basato sui giovani se poi i giovani non li facciamo giocare perché i giovani fino adesso che stanno giocando titolari nella formazione di ieri ipotezzando quella di ieri del Milan chi c'è? chi è il giovane? Bentancur? Chiesa di no Sandro no Danilo no Chiellini no Bonucci no Locatelli Locatelli e Bentancur Rabiot inizia già a non essere giovane Di Balla no Morata no Guadalardo no i due centrocampisti basta mettiamoci anche Chiesa di Elite iniziamo a pensare che magari Kuluseschi Ken McKennie devono attraversare un processo di crescita tale per cui devono arrivare a essere titolari perché in questo momento anche con quelli che non sono giovani i risultati non li stai ottenendo allora io vi chiedo quelli che criticano Allegri in funzione dei risultati che ha ottenuto ma perché perché vi sta sulle balle e quelli che elogiano Allegri anche in questo momento ma perché per riconoscenza e per riconoscenza ce l'avremo sempre quei cinque anni adesso è impossibile è impossibile dire ah no sono contento di quello che sta facendo Allegri sta facendo un'ottima stagione fino ad adesso ma in che modo ma sulla base di che cosa di giocare 20 minuti 30 minuti ogni tempo magari ogni tempo ogni primo tempo e basta ma Allegri stesso non è contento ragazzi se arrivano i risultati bene se no amen ve ne dico un'altra Allegri è firmato per 4 anni a 7 milioni di euro l'anno e non 9 a 7 perché questa cosa ancora torna nella testa di tanti la Juve non lo esonera partita da questo presupposto la Juve ha deciso di affidare la panchina ad Allegri per creare un progetto non può più permettersi la Juve di fare una roba del genere non può permettersi di desonerare Allegri a libro paga 7 milioni di euro l'anno per 4 anni quindi mettiamoci l'anima in pace Allegri è Allegri va fatto lavorare ma Allegri deve iniziare a portare dei risultati a partire da mercoledì con lo Spezia che è una partita ora ragazzi è una partita delicata e se non vince è un disastro poi c'è la Sampdoria poi c'è il derby poi ci fermiamo un attimo poi c'è una pausa nazionale poi inizia un tragitto ragazzi c'è un calendario di inferno quindi un po' più per usare una parola di Allegri equilibrio nei giudizi perché i pregiudizi sono una cosa tremenda come quando mi vengono a scrivere ah adesso è Juventino però ne capisci di calcio della serie gli Juventini non capiscono un cazzo perché sono Juventini però tutti salvi questo è un pregiudizio così come ah Allegri fenomeno in ogni caso oppure ah Allegri cesso in ogni caso mi state a giudicare per quello che è davvero per quello che accade davvero e per quello che mostra il campo non per un'idea fissa nella vostra testa che non cambia mai nemmeno con i fatti sotto per cortesia non per un'idea fissa